Io vado a Mennella, penso perché non l'ho mai fatta, penso che il Brillo già l'ha fatto. Quindi sceglie il nuovo? Di solito si sceglie sempre il nuovo. La prima cosa è la pulizia della città, poi dopo la pulizia la sicurezza. Vabbè, non ci possiamo legnare, lamentare. Che funziona, la viabilità, questo è pure importante, la sanità è importante, che non dobbiamo aspettare mesi sani per farci un esame. E volendo fare un pronostico, secondo lei chi vincerà? Io penso che saranno testa a testa, fino all'ultimo voto. Se vince, vince proprio per poco. Per una manciata di voti? Sì, c'è una manciata di voti, proprio così. Io non voterei proprio, perché qua ogni politica fa gli stessi errori, insomma non ci sta il politico che si impegna per tenere perlomeno pulita la città. Ecco, secondo lei chi è che vincerà la prossima elezione? Il ballottaggio è il ballottaggio, quindi bisogna vedere più o meno gli stessi voti. Ecco, da cittadino, se può rivolgere una domanda sia al candidato Mennella sia al candidato Borriello? Quella di tenere pulita la città. La città non è pulita. Il principale obiettivo del sindaco nuovo è di tenere la città pulita. Secondo lei chi sarà il futuro sindaco di Torre del Greco? Non lo so questo. Non lo so. Ecco, se potesse in realtà rivolgere una domanda sia al candidato Borriello che al candidato Mennella, quale sarebbe? Di mettere a posto un po' la situazione del Torre del Greco. Siamo troppi anni, sempre con chi sale, non fa mai niente per Torre del Greco. In Greco è sfiduciato. Troppi anni, sempre la solita routine. Prima c'avevo uno stimolo per Borriello, proprio sfondato, ma ora le cose stanno cambiando. Qualcuno ha cambiato idea per Mennella, veramente. Quindi lei prevede una novità? Spero qualcosa di meglio, perché Torre del Greco è il cittadino d'Italia, invece la spazzatura d'Italia. Secondo lei chi sarà il futuro sindaco? Dobbiamo cambiare faccia per vedere che cosa ne viene, perché non sta avvenendo niente di buono a questo paese. Come i giovani abbandonati, le strade abbandonate, i tombini pieni di porcheria. Non c'è niente di buono. Allora dico io, perciò ho detto, ripeto, ci vorrebbe un commissario prefettizzi. Se lei potesse rivolgere una domanda sia al candidato Borriello sia al candidato Mennella, quale sarebbe? Al candidato Borriello, lui ha fatto almeno qualche cosa di bene, che ha insegnato a tutti i giovani di portare il casco. Poi, la verità, non siamo noi a giudicarlo se è successo qualcosa o non è successo. Di questo sindaco Mennella dovremmo vedere che capacità avrebbe di mettere a posto la città. Luigi Mennella, chi se no, altrimenti. Vabbè, sono la collega di studio ma l'avrei votato a prescindere l'avvocato Mennella, lo conosco da ormai circa 15 anni. È la persona più onesta che abbia mai conosciuto. È una persona che aiuta chiunque, senza scopi. È una persona meravigliosa del resto, quindi soltanto Luigi Mennella. Se vogliamo cambiare questa città, solo Luigi Mennella può farlo. Musica 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 Musica